Meno 75 posti letto nell'area medica dell'ospedale di Castelfranco con l'attivazione dello Iov rispetto a quanto previsto dalla legge regionale 2012 in materia di programmazione socio-sanitaria. I dati sono quelli che ha diffuso la CGL per fare il quadro della situazione nel nosocomio castellano. Castelfranco diventa sul serio e in maniera definitiva un centro di specializzazione oncologico? Va bene. Quello che va meno bene è una previsione temporanea, quello che va meno bene è il taglio di posti letto. A risentire maggiormente dell'arrivo dell'istituto oncologico sarebbe il reparto di medicina generale che secondo i dati del sindacato dai 76 posti letto previsti si passerebbe a 40 con una differenza di 36. È un'area che c'è in sofferenza, è un'area sulla quale negli ultimi tre mesi c'è stata una richiesta di ricovero eccezionale con carichi di pazienti che avevano problemi di area medica nei reparti di area chirurgica o nelle specialità. Gastroenterologia ed ematologia, sempre secondo i dati della CGL, rischerebbero di scomparire anche se per questo ultimo reparto la regione avrebbe deciso di incrementarlo con ulteriori quattro posti letto. Salvaguardia dell'ematologia e quindi immaginiamo in attesa dei documenti sei posti letto e di ulteriori quattro posti letto di area medica. Le richieste del sindacato alla regione Veneto dunque sono chiare e coinvolgono gli ospedali di comunità. Almeno 20 posti letto di area medica negli ospedali di comunità che oggi non ci sono e di attivare almeno altri 10 posti letto dell'area medicina generale.